Ok, è la prima volta che ci provo, non mi sono allenato prima, apposta. Sono pronto? Posso parare un po'? Cioè, non so. Cosa dovrei fare? Quindi semplicemente girare e prenderla. Ah, il primo colpo. Bravo, Paolo. Sì, bravissimo. Guardatevi di provare. Ma lui vuole l'altro bravo? Oh, anzi, guarda, ti faccio io. Aspetta, ne faccio un'altra, lì. Ma con l'uno è facile. E poi? Ma con la stessa mano. Che di prendere? Ah, che di prendere, sì. Io non so capace, vabbè. Non li, non li, vai, vai. Ah, qua. Ah, qua. Acqua. Grazie a tutti.